Grazie per questo invito, grazie. Anch'io non sapevo che avrei parlato anche col Presidente della CEI qui quando il vostro Arcivescovo mi ha invitato. Lo saluto, l'editore di riferimento, il Cardinal Zuppi, il Vescovo Matteo Maria, Don Matteo, lo chiamiamo in tanti modi a sua eminenza, è il padre di questa Chiesa. Mi è stato detto in sostanza di parlare un po' stasera con voi di che tempo fa, nel senso di che mondo fa, qual è il mondo nel quale i cristiani camminano, qual è la realtà nella quale siamo immersi, ma voi la conoscete già, allora proverò a riassumerla facendo un giro di sguardo sulla realtà che stiamo attraversando. E' un mondo globalizzato, lo sappiamo, ci è stato detto e ripetuto in tutti i toni, ci siamo dentro da decenni, qualcuno ci dice che ora siamo in un tempo di rottura di questa globalizzazione, perché una vecchia nemica dell'umanità, quella che dicono che è la compagna, anzi è la penna che scrive la storia, la guerra, è tornata a visitarci e infuriare sulle terre d'Europa, nelle terre d'Europa in maniera aperta. Avevamo pensato, forse nonostante qualche incidente di percorso in qualche periferia del nostro continente, penso ai Balcani che sono vicini a noi ma lontani da tutto, penso al Caucaso, che la guerra non ci riguardasse più, che non riguardasse gli europei. Cosa ad altri, magari vicini, nel vicino oriente, ma qualcuno che potevamo pensare con un bel mucchietto di miliardi magari di bloccare lì, ai margini del nostro mondo. Poi c'erano realtà che ci spiegavano che così non era esattamente, perché goccia a goccia d'umanità, quell'umanità ferita e piegata dalla guerra, veniva a bussare le porte delle nostre case, delle nostre città, a vivere con noi, a chiedere di lavorare con noi, a chiedere scampo e rifugio presso di noi, perché la guerra non risolve nessun problema, mai. Li aggrava e massacra la vita degli uomini e delle donne e distrugge la vita delle comunità più piccole, quelle che chiamiamo minoranze, ma nel mondo siamo tutti minoranza e lo stiamo capendo sempre meglio, sempre di più, nei tempi complicati e sfidanti che viviamo. La guerra ci ha fatto capire che forse la globalizzazione si è rotta, ma in realtà non è così, perché la guerra ci dice, quella che sta infuriando in Europa, che se non è un battito di farfalla, ma è un prullare di missili, è un tonare di cannonate che distruggono persino gli ospedali, le scuole, le biblioteche, le chiese, i monasteri, questa guerra ci dice che cade questo in Ucraina, nelle pianure antiche della Sarmazia e succede qualcosa in contemporanea in Africa, nel vicino Oriente, in altre parti del mondo dove si ricomincia di più a morire di fame, perché il mondo è connesso, perché tutto si tiene e anche se qualcuno pensa di rompere l'ordine disordinato che si è costituito dopo la fine del vecchio ordine della guerra fredda, accade che questa rottura bellica significhi la continuazione della sofferenza in altre parti del mondo e si riverbera esattamente come accadeva in altri momenti, ma noi magari non lo vedevamo, qui siamo costretti a vederlo, però vi faccio riflettere su un fatto, quanti sono i giornali che ancora oggi continuano a raccontarvi alle televisioni della fame che sta infuriando nel mondo e quanti giornali hanno già tolto completamente la guerra anche dalla prima pagina, anche se continuano a infuriare. Il mondo che fa sembra che ci interesse fino a un certo punto, finché l'audience è alta, finché ci si può far baruffa sopra e poi si abbassano i riflettori e si distoglie lo sguardo. Il mondo che fa è questa, la globalizzazione che abbiamo fatto è questa. Qualcuno ricorderà che all'alba di questo processo, il Santo Padre, allora si chiamava Giovanni Paolo II, a Moniva che una globalizzazione costruita senza solidarietà, che non fosse anche globalizzazione e solidarietà, ci avrebbe portato su strade pericolose, quelle che Papa Francesco chiama della globalizzazione dell'indifferenza, che è, pensate un po', il connotato anche del tempo complicato nel quale pare che tutti siamo schierati, più o meno, tutti siamo da una parte e dall'altra. La guerra è una parte della crisi che attraversiamo che ha altri nomi. Ha il nome della crisi climatica, che viene prima della guerra cronologicamente in questa fase della consapevolezza della gente, ma già abbiamo un po' messo da parte, anche se lì dentro c'è la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti, c'è la qualità dell'esistenza delle nostre comunità e delle relazioni che avremo con gli altri, c'è la possibile guerra del futuro e saranno altre guerre giuste per difendere i confini che non devono essere oltrepassati da nessuno, soprattutto se è un aggressore, ma pensate cosa accadrà, ma non fra qui a 50 anni, da qui a 10-15 anni, con quello che sta accadendo, con parti del mondo che stanno finendo sotto acqua, o centinaia di milioni di persone che si ritroveranno senza una terra dove stare, con le fonti che si naridiscono, con le guerre dell'acqua. Guardate quello che accade in Africa, negli alti piani fra l'Etiopia, il corno d'Africa, con cui noi italiani abbiamo un'antica relazione, e il Sudan, quello che accade con i grandi fiumi che attraversano il mondo, dal Trigli e l'Ofrate fino al Nilo, nelle sue ramificazioni, le dighe che vengono costruite, gli invasi che vengono costruite, le tensioni che si stanno moltiplicando, vedremo guerra, ci sono scienziati che ce lo dicono da un quarto di secolo, guerre per l'acqua, se non sapremo governare il mondo e se non sapremo globalizzare la solidarietà dentro la realtà che stiamo vivendo. Dire clima per qualcuno è uno sfizio di quelli che non si fidano e non credono che dentro la storia ci sia un disegno comunque magari anche provvidenziale che ci accompagna risolvabilmente verso il bene. Il Padre Eterno ci ha dato una responsabilità di custodire noi quello che lui ha fatto. E noi abbiamo questa responsabilità totalmente, ecco la grazia che lui può darci, di illuminarci lo sguardo, ma è sulle nostre spalle, ne siamo responsabili e ne dovremo dar conto. Ed è la stessa responsabilità che garantisce la vera pace, che è quella che non è soltanto quando non ci diamo le cannonate, ma quando sappiamo vivere in armonia con i territori, con la storia che l'ha fatti come sono e che noi ereditiamo, con le persone che lo abitano, quel territorio, che alcune ci sono nate e altri sono venuti a vivere da sempre così. E nella nostra storia di italiani l'abbiamo scritto nei tratti somatici e nel DNA. Ed è il rapporto verso l'alto. Per noi che crediamo c'è anche questo dentro potentemente. Quando gli uomini e le donne mettono il proprio io al posto di Dio sappiamo che cosa fanno, quale delirio di onnipotenza e di violenza si scatena. Anche la pandemia è venuta a dircelo del nostro limite che dobbiamo saper riconoscere. E io non so se l'abbiamo interiorizzato fino in fondo, spero di sì. Spero che abbiamo capito che anche ogni nostro singolo respiro è comunicazione di qualcosa di noi all'altro, che può essere un contagio. E se siamo capaci di contagiarci con le malattie o con le nostre male parole, a maggior ragione dovremmo saper fare, penso a noi cristiani, quello che ci è chiesto di saper fare. Di essere portatori di una parola che invece accende speranza, indica un cammino sul quale camminare a schiena diritta, ma sapendo chinarsi tutte le volte che serve, verso quelli che incontriamo e con i quali ci mettiamo in rapporto. Una parola che costruisca ponti e non ostruisca le vie di comunicazione. Perché il male del nostro tempo, la pandemia ce l'ha detto in maniera molto chiara, è la divisione, come abbiamo diviso le nostre città, diviso le nostre vite, diviso le nostre relazioni. È bastato che ci chiudessero per un po' in casa, perché ci rendessimo conto di quanto siamo soli dentro le nostre città molto popolate apparentemente, di quante famiglie mononucleari, a me pare di parlare di mononucleosi, una malattia ogni volta che lo dico, ed è una forma di malattia, di quante persone sole ci sono nelle nostre città. E quando tu le chiudi in casa capisci di quanto fragile sia la tramatura della nostra esistenza. O al converso per altre situazioni abbiamo capito che abbiamo diviso così male le nostre città, che ci sono persone così proiettate a vivere sempre fuori dal luogo dell'abitazione, che quando ci hanno chiuso là dentro ci siamo accorti che in 60 metri quadri, in 70 metri quadri, un padre e una madre che devono lavorare, e magari due figli, quelli che hanno la temerialità di fare ancora due figli, almeno nel nostro paese, c'è anche chi ha una temerialità maggiore, ma molti hanno paura e condizioni tali da non poter avvicinarsi mentalmente, anche solo a questa prospettiva, che è quella più naturale, per uomini e donne che si sposano, che scegliono di vivere insieme, di essere generativi, si accorgono che in questi 60 metri quadri non si poteva studiare, lavorare, vivere adeguatamente. Che cosa abbiamo fatto? Come abbiamo diviso il nostro spazio e il nostro tempo? Rendendoci più facile vivere separati che vivere insieme. Oppure drammaticamente difficile, magari in case troppo grandi, vivere da soli. Soli, soli. La solitudine è l'altra grande guerra che accompagna la nostra vita dentro il mondo che stiamo facendo, il mondo delle megalopoli. Noi pensiamo di avere grandi città, ci sono città del mondo, Cardinal Zuppi le conosce bene, l'ha girato, l'ha accompagnato, anche nelle sue vite, nei suoi servizi precedenti, a quello di Vescovo di questa diocesi. Un mondo che sono megalopoli, dove vanno decine di milioni di persone. Che grande compito c'è? Che grande semina c'è da fare? O dobbiamo pensare che il mondo sia inesorabilmente un luogo dove si sta ognuno per sé, si fanno i propri affari, si costruiscono relazioni, ma non si fa comunità? Questo è il genio dei cristiani, questo è il genio degli uomini e delle donne di buona volontà, perché si possono globalizzare i mali, come ho detto, forse, fino a questo punto, e si possono globalizzare i beni. E la globalizzazione dei beni parte prima di tutto dalla globalizzazione del bene che sono gli uomini e le donne. Nel mondo che stiamo facendo, gli uomini e le donne rischiano di essere considerati problemi, non la soluzione dei problemi. Non ci credete? Mai. Con tutta la nostra fragilità, noi portiamo in cuore la soluzione dei problemi che affrontiamo e che ci creiamo da soli. E ogni uomo e ogni donna è una scintilla della risposta che possiamo trovare e fare insieme. Siccome il tempo corre, vorrei dirvi però che questa condizione sostanziale di uguaglianza è negata in molti modi, e anche i beni di cui disponiamo, le ricchezze di cui abbiamo sulla faccia della terra, a cominciare dall'acqua, di cui ho detto, del grano a cui ho accennato parlando della guerra, dobbiamo saperli condividere. E se non c'è una misura di rispetto totale dell'umanità degli altri, noi continueremo a costruire il mondo di suguaglianze che sappiamo. Qualcuno ci ha spiegato, nei suoi rapporti annuali appena presentati, Oxfam in particolare, che mentre infuriava la pandemia si sono accresciute le distanze ancora una volta tra quelli che hanno molto e quelli che hanno niente sulla faccia della terra. Questo è il mondo che fa, in cui persino la pandemia accresce il numero dei miliardari assoluti e accresce il numero delle persone che stanno sulla soglia della sopravvivenza. Accanto a questi uomini e queste donne che lottano per la vita, ci sono degli uomini e delle donne che vengono considerati buoni, da qualcuno buonisti, è diventata una parolaccia essere buoni per molto tempo, anche nel nostro Paese. Eppure c'è qualcuno che va ostinatamente nella direzione giusta, che è ostinata e contraria rispetto all'andazzo del tempo che stiamo attraversando e pensa che le disuguaglianze si possano sanare, non acuire, che non è vero, che non è già scritta questa storia che stiamo scrivendo, purtroppo. ed è la risposta che passa anche attraverso le parole che sappiamo usare, le parole che sappiamo mettere in circolazione, le parole che non dipingono l'altro come un mostro. Uno dei mali del nostro tempo è la mostrificazione dell'altro. Noi sappiamo che l'altro, con la maiuscola, è la condizione della nostra libertà. è la genesi della nostra libertà di figli. Dio ci ha fatto così. Figli e fratelli. E tornerò su questo. Papa Francesco ci inciste tanto. Io non ho sentito le parole che voi state dicendo nel vostro cammino sinodale, ma so che queste sono le parole dei cristiani. E questa è la parola dei cristiani. La fraternità. Che sta accanto alla libertà e all'uguaglianza. Ma come vi dicevo, uguali, uguali, uguali. Dove sono questi uomini e queste donne uguali negli occhi di troppi, sulla faccia della terra? Se i cristiani non sanno aiutarli a riconoscere tutti, a far riconoscere a tutti la nostra condizione di uguaglianza, a cosa serviamo? Pensate all'accoglienza straordinaria che stiamo facendo ai nostri fratelli che vengono dall'Ucraina. E pensate a quella simmetrica che non stiamo facendo ai nostri fratelli che vengono dall'Afghanistan. Non è passato ancora un anno da quando quel paese, dopo la guerra che abbiamo fatto, preventiva, come quella che crede di fare Putin in Ucraina. La guerra preventiva contro i nazisti d'Ucraina. Lui crede, dice ai suoi, che sta facendo una guerra preventiva contro un male più grande. Noi abbiamo fatto una guerra preventiva contro i terroristi che erano in Afghanistan per fermare il grande male del terrorismo. Vent'anni dopo quelli che avevamo liberato li abbiamo lasciati solo e sono tornati sotto lo stesso regime. Tutto distrutto e la guerra ha creato solo più divisione e nessuna libertà maggiore per le persone che vivono in quel paese. Meditate anche questo. Nessuna guerra costruisce condizioni di libertà né per quelli che credono né per quelli che credono diversamente da noi né per quelli che non credono. Drammaticamente diseguali. Gli afghani oggi arrivano in Italia via mare con navi clandestine sono la metà degli arrivi via mare perché non c'è più un ponte che li conduca da noi in maniera regolare. L'abbiamo fermati lì accanto ai paesi nei paesi accanto a loro dove sono quelli che sono in fuga. Molti sono cristiani i clandestini ma non ci interessa come non ci interessa neanche che siano tanti cristiani che arrivano dal cuore d'Africa ma hanno la pelle di un altro colore e non lo riconosciamo come i nostri fratelli almeno molti di noi persino la comunità cristiana faticano a riconoscerli come uguali a noi e non si rendono conto che sono figli spirituali della nostra stessa chiesa perché sono missionari e fidei donum partiti da qui che li hanno generati alla fede e anche alla speranza che la mostri al cammino di sperante attraverso i deserti d'Africa e attraverso la strada che non c'è quella che si inabissa nel Mediterraneo cimitero liquido come ci ricorda sempre il Papa del nostro tempo e questa è la libertà solo di alcuni anche solo di quelli che possono muoversi che possono viaggiare il mondo il mondo che abbiamo è un mondo nel quale per essere naufraghi bisogna stare su un panfilo di lusso se stai sulla barca dei poveri sei un clandestino un irregolare questo è il mondo che fa e al quale non possiamo rassegnarci io credo che ho citato libertà e uguaglianza sapete che sono la triade che è profondamente cristiana ma che laicamente è diventata la base della grande rivoluzione laica per eccellenza quella dell'illuminismo che ha costruito l'Europa moderna dicono abbiamo costruito l'Europa moderna sui principi di libertà e uguaglianza una parte più libertà l'altra più uguaglianza a lungo tempo ai tempi della guerra fredda da una parte c'erano gli egualitaristi che hanno fatto una notte mortificante che ha ucciso anche lo spirito dall'altra quelli innamorati della libertà e abbiamo costruito un modello il nostro un po' migliore del loro ma la libertà e l'uguaglianza se non hanno la fraternità accanto sono due ideologie non sono due idee forti per la vita degli uomini e delle donne che aiutano a cambiare la realtà e a farla camminare nella direzione giusta i cristiani possono e devono insegnare al mondo a questo mondo che fa che è un mondo storto e sembra solo storto che no c'è la via possibile la solidarietà comincia quando si è fratelli quando ci si riconosce fratelli questo è il messaggio forte del pontificato di Francesco ma è la strada sulla quale i cristiani e le cristiane sono chiamate a camminare da sempre sapete è più difficile riconoscersi fratelli in una società come la nostra nella quale si nasce ormai quasi solo figli unici si disimpara la fraternità persino nella culla della vita che è la famiglia in troppe famiglie italiane e allora vuol dire che per le nostre comunità c'è un compito più grande ancora più importante in una società di figli unici come la nostra e come tanta parte della società europea insegnare a vivere la fraternità semplicemente dimostrandosi fratelli e sorelle nel tempo che ci è dato io credo che questo sia l'avvenire e credo che sia il compito che possiamo assolvere per noi e per gli altri e che questo sia un modo per rendere la vita attraente e la vita delle nostre comunità attraenti credo che questo sia il cammino l'avevo scritto anche celebrando i 50 anni di avvenire che hanno conciso lo so ogni volta che parlo a Bologna lo devo dire con la fine dell'esperienza dell'avvenire d'Italia che è confluito dentro avvenire ma io sono orgoglioso di quell'ascito e cerco di tenerlo vivo con il lavoro dei miei colleghi e delle mie colleghe nel giornale che stiamo facendo e credo che fraternità sia davvero la parola chiave per il tempo che viviamo che vuol dire anche imparare ad ascoltare gli altri questo ascolto che il Papa in un messaggio non quello di quest'anno dove ci invita ad ascoltare col cuore ma di quel canno fa definiva lo ricordavo poco fa con i colleghi di Bologna 7 una sorta di martirio l'ascolto dell'altro una terra sacra su cui camminare scalzi è così io lo imparo ogni giorno facendo il mestiere che faccio grazie a voi per avermi ascoltato spero di non aver detto cose totalmente inutili grazie buon cammino grazie 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 grazie